dovremmo essere in diretta Marco posso lo vedi prima tu se è così mi riesco a verificare un secondo no, ovviamente è in diretta sì, dovremmo essere in diretta su Facebook io la vedo siamo in diretta su la pagina non mi consentirete di fare un'ultima verifica Jacopo è a posto? sì, siamo in diretta su Facebook ci siamo, quindi benvenuti con un leggero ritardo a causa di disguidi tecnologici della serata alla 132esima serata di Lodi Liberale oggi è una delle serate di cui siamo più orgogliosi per vari motivi da una parte c'è sicuramente il progetto tecnologico della serata e dall'altra la serata di Lodi Liberale la serata che precede questo tipo di incontro chi segue Lodi Liberale sa perfettamente che noi ormai da sette anni e mezzo organizziamo adesso settimanalmente in formato webinar quindi via Zoom e in diretta sulla pagina Facebook di Lodi Liberale la presentazione di libri per diffondere le idee liberali in ogni ambito economico, filosofico, politico, scientifico, artistico perché no e a partire da quest'anno abbiamo deciso di dedicare il primo e il terzo lunedì del mese alla presentazione dei classici del pensiero liberale l'abbiamo già fatti molti uno lo vedete qui alle nostre spalle Milton Friedman, Capitalismo e Libertà come poi vedremo durante la serata è strettamente legato al tema della nostra serata e abbiamo deciso fin dall'inizio che quando quest'anno i mesi di lunedì ne hanno cinque li dedichiamo a statisti liberali e quindi abbiamo presentato a marzo se non ricordo male questo libro qua che è di Elisabetta Rosaspina ed è dedicato alla Thatcher la Margaret Thatcher e come secondo statista non potevamo che decidere di presentare un libro molto interessante, molto scorrevole ricco di aneddoti anche sulla vita personale e privata del quartesimo presidente degli Stati Uniti d'America ovvero Ronald Reagan il libro appunto di Gennaro Sangiuliano che ha come sottotitolo come al solito reticacissimo il presidente che cambiò la politica americana quindi intanto ringrazio gli autori Gennaro Sangiuliano direttore del Sottotitica 2 è autore di molti anni di biografie di personaggi importanti della politica generale, contemporanea e non solo sicuramente il primo liberale perché insomma dei libri che aveva scritto ultimamente dedicati prima a Putin e poi alla vita della Cina sicuramente non erano dei nostri punti di riferimento importanti ma appena ho visto che era stato pubblicato dalla Mondadori mi sono permesso di contattare subito il direttore perché non potevamo noi regagnani indefessi e impenitenti da sempre non potevamo che riuscire a presentarlo nella nostra serata in più abbiamo l'onore di avere con noi l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata che ci onora della sua presenza un liberale da tempo assolutamente non credo dell'ultima ora anzi e che è anche presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella altra figura importante per i liberali veri perché Marco Pannella è stato un protagonista della vita politica della battaglia per i diritti civili e noi abbiamo celebrato ormai cerchiamo di farlo sempre coinvolgendo agli inci radicali perché credo che avesse cognato una espressione piuttosto efficace all'epoca sono liberale perché ho studiato sono radicale perché ho capito quindi insomma essere presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto credo che sia assolutamente importante sono due eccellentissimi redatori e due new entry a Lodi Liberale mentre il terzo redatore il giornalista Marco Respinti lo possiamo tranquillamente definire un amico di Lodi Liberale perché è la seconda volta che viene ci segue da un po' è la prima volta abbiamo cercato di affrontare un tema piuttosto ambizioso in occasione dell'anniversario celebrando la dichiarazione di dipendenza degli Stati Uniti d'America allora col professor Marco Bassani assoluto indegnamente alle cronache ma siccome noi liberali veri lo siamo già oltre ad aver firmato la petizione in favore del professor Marco Bassani le annuncio che in tempi non sospetti e prima di tutto ciò che è accaduto avevamo già deciso di presentare il libro di Rothbard per una nuova libertà con Marco Bassani che sarà con noi il 21 di giugno perché è importante questo libro? ma io inizierei da dove è iniziato tutto cioè dal 1964 e quindi da questo altro libro che non presentiamo stasera che è il libro Il vero conservatore di Barry Goldwater secondo me qui c'è una come dire un'invocazione al voto che ogni liberale vorrebbe sentire ma che in Italia è troppo tempo che non si sente verrà il momento in cui affideremo la condotta delle nostre faccende a uomini in grado di comprendere che il loro primo dovere come funzionari pubblici è di spogliarsi del potere che è stato dato loro verrà quando gli americani centinaia di comunità in tutto il paese decideranno di eleggere l'uomo che avrà promesso di applicare la Costituzione e restaurare la Repubblica che ha proprio calmato un discorso elettorale ho poco interesse a creare un governo dinamico o a renderlo più efficiente perché voglio ridurne le dimensioni non voglio promuovere il benessere perché voglio estendere la libertà il mio obiettivo non è di far provare nuove leggi ma di farle abolire non è di inaugurare nuovi programmi ma di cancellare quelli vecchi che fanno violenza alla Costituzione o che non sono riusciti nel loro scopo o che impongono al popolo un fratello finanziario ingiustificabile non voglio tentare di scoprire se la legislazione sia necessaria prima di aver stabilito se possa considerarsi costituzionalmente legittimo e se più tardi dovesse essere attaccato per aver trascurato gli interessi dei miei elettori risponderò che fu informato che il loro interesse principale è la libertà e che al servizio di tale causa ho fatto quanto era il mio potere credo che Barry Goldwater è stato iniziatore ma è citato ampiamente anche nel libro di quella che potrebbe essere definita come il percorso di avvicinamento al potere con la costruzione della nuova destra americana conservatrice liberale e che ha perso le sue presidenziali ma che ha lanciato nell'orbita del firmamento politico statunitense Ronald Rega con il famoso discorso appunto chiamato The Speech perché appunto intervenne a quella convention dimostrando già subito che sarebbe stato il futuro leader degli Stati Uniti d'America e quindi il candidato naturale nel corso degli anni a guidare questo grande paese che cosa è stato Reagan? è stato tantissime cose è stato un presidente coerente un presidente che ha cercato di imporre le idee che aveva sviluppato nel corso degli anni perché nel libro viene ricordato Ronald Rega nacque politicamente democratico ma elaborò un suo pensiero grazie all'approccio degli economisti della scuola di Chicago grazie alla conoscenza dei testi della persona di Milton Friedman grazie alla conoscenza di Hayek di Nisex dei testi sacri come dire del pensiero liberale e quindi ha avuto un percorso di evoluzione che lo ha portato passando dal governo della California a diventare un presidente amatissimo dal popolo statunitense dal popolo americano che lasciò una scia dietro di sé che è durata ben oltre i suoi lunghi otto anni di presidenza e che ha caratterizzato la crescita economica ma anche la rinascita di alcuni valori liberali e conservatori negli Stati Uniti che si sono portati avanti ben oltre appunto la sua presidenza che cosa ha fatto nel libro viene citato un episodio e probabilmente ne manca uno che secondo me sono emblematici e poi non voglio entrare nello specifico il primo quello che viene citato è l'episodio famoso in cui Arthur Laffer spiegò al presidente Reagan che cos'era la curva di Laffer che è una cosa molto semplice su un tovagliolo di carta in un pranzo o una cena non mi ricordo più esattamente in cui spiegava molto semplicemente questa curva che cos'è un diagramma cartesiano sull'asse delle ordinate c'è l'aliquota d'imposta e sull'asse delle ascisse c'è il getto fiscale prodotto ovviamente è un esercizio che faccio spesso con le persone con cui discuto di queste tematiche alla domanda ma se l'aliquota è lo 0% qual è il getto fiscale risposta assolutamente immediata e intuitiva 0 la domanda successiva è ok ma se l'aliquota fiscale è il 100% qual è il getto fiscale 9 volte su 10 la risposta è 100 cioè chiaramente va tutto allo stato ovviamente non è così per un motivo molto semplice perché la vera risposta è 0 perché la risposta vera è 0 perché perché non ci sarebbe l'incentivo a produrre a lavorare a dichiarare e quindi quando tu tendenzialmente tutto ciò che produci va allo stato ovviamente tendi a non farlo quindi tendenzialmente la tumba di l'afri che cos'è questa relazione tra l'aliquota fiscale e getto fiscale che è una curva a campana rovesciata che fisiologicamente raggiunge un picco un massimo che non è identificabile scientificamente dipende dal stato dell'economia dallo stato del paese come dire da tutta una struttura normativa ma ovviamente superato il quale il tetto massimo cosa succede che da una parte che si aumenta le imposte le aliquote fiscali si riduce il getto fiscale ma viceversa cioè riducendo le tasse il getto fiscale aumenta questa può sembrare una teoria astrusa controintuitiva ma ha avuto almeno due come dire dimostrazioni della sua validità negli Stati Uniti d'America la prima che spesso non viene ricordata io l'ho presa leggendo i testi di un altro liberale Antonio Martino che sono un martignano di ferro da sempre e che spiega che prima riduzione drastica delle imposte la fece John Fitzgerald Kennedy quando l'aliquota marginale massima era oltre il 90% Reagan credo che quando fece la prima drastico taglio fiscale fu sopra il 70% e che cosa avvenne tagliando le tasse tutte anche le aliquote marginali massime quindi quelle sui percettori di reddito più ricchi avvennero due cose la prima come abbiamo detto che il getto fiscale aumentò ma la seconda ancora più controintuitiva della prima che ogni percentile dei più ricchi quindi dal primo percetto l'1% più ricco al 2 3 4 5 insomma le percentuali dei contribuenti più benestanti aumentarono la propria quota di partecipazione del getto statale dopo che gli furono ridotte le imposte perché perché si scatenano gli animal spirit di svitiana memoria perché non c'è più alcun incentivo da parte di queste classi di reddito a eludere le imposte ma o a rimanere fermi a non lanciarsi in ulteriori iniziative e quindi a produrre crescita e anche aumento del getto dello Stato ecco questo è un episodio che ha citato nel libro e quella è la supply economics o la ergonomics all'essenza oltre che il taglio di burocrazia liberalizzazioni oneri vari burocratici il secondo episodio e poi lascio la parola all'autore che invece non è citato ma che credo sia emblematico del decisionismo e della coerenza senza badare ai compromessi se non quelli necessari quando si crede fermamente nelle proprie idee credo che sia l'episodio che non so collocare nel tempo non mi ricordo perfettamente che è quello dei controllori di mono a un certo punto ci fu una dichiarazione da parte dei controllori di mono degli Stati Uniti di sciopero un anticipo di dichiarazione di sciopero Ronald Reagan semplicemente fece comunicare a tutti i controllori di mono che i casi erano due o recedevano dal loro intento e quindi sarebbero andati a lavorare in quel caso chiaramente non sarebbe successo niente ma invece se avessero deciso di permanere nel loro intento la cosa sarebbe stata molto semplice la conseguenza ovvero il licenziamento in tronco di tutte le persone che sostanzialmente avevano diritto grazie Marco 1981 a questo sciopero perché? per un motivo molto semplice perché è uno sciopero di servizi pubblici essenziali come quello del controllore di volo eccolo lì ed eccolo anche qua semplicemente non si può andare a danneggiare le persone che non c'entrano niente con una lotta sindacale effetto cosa fu? metà dei controllori di volo decise di non di desistere sostanzialmente l'altra metà invece persistette nell'intento di scioperare dopo il giorno sostanzialmente dopo dello sciopero Reagan licenziò in tronco tutti i controllori di volo che avevano scioperato sostituendoli con personale militare effetto da allora non c'è più uno sciopero nei sistemi aeroportuali statunitensi questo vuol dire governare avendo fede in stella polare alcuni principi cardine avere coraggio e avere coerenza e quindi sicuramente Ronald Reagan è stato il miglior presidente degli Stati Uniti d'America e quindi è doveroso che un'associazione come la nostra di Reaganiani tacceriani impenitenti non possa che essere orgoglioso e felice di presentare questo quindi ringrazio i relatori e cedo subito la parola a Gennaro San Giuliano che ringrazio di essere con noi e innanzitutto buonasera a tutti grazie all'Odi Liberale per questa organizzazione e grazie ai due amici l'ambasciatore Giulio Terzi ricordo ex ministro degli esteri italiano e l'amico e collega Marco Respinti che è anche citato all'interno della biografia di Reagan per un suo precedente lavoro che prima gli ho mostrato stava qui e che stava dietro di me tra i libri diciamo sui quali mi sono come dire in un certo senso documentato per scrivere questa biografia vedete la forza di un personaggio come Reagan noi l'abbiamo palpata in questi giorni quando Joe Biden parlando di un'ipotetica ripartenza degli Stati Uniti d'America dopo la pandemia ha proprio citato Reagan sapete che io sono un crociano e come Benedetto Croce penso che la storia è sempre un fatto contemporaneo la storia non è un orpello del passato ma è una cassetta degli attrezzi da cui noi rinveniamo gli strumenti per interpretare la realtà a noi vicina e magari cercare di trovare come dire delle intuizioni che ci fanno prefigurare il futuro ebbene Biden ha richiamato quella grande ripartenza degli Stati Uniti d'America che Ronald Reagan con il suo ottimismo con il suo carattere accolto da grande scetticismo in tutto il mondo all'epoca nel 1980 perché sono 40 anni dall'inizio della presidenza americana di Reagan che inizia appunto il 20 gennaio del 1981 intervenne in un momento non dissimile da quello attuale anche se la pandemia è cosa diversa da quello che accadde allora Reagan eredita un'America ripiegata su se stessa dove innanzitutto c'erano disastrose condizioni economiche un'inflazione altissima una disoccupazione a due cifre un apparato produttivo irrigidito e arrugginito irrigidito perché vincolato allo strapotere dei sindacati e arrugginito perché non si era modernizzato rispetto invece a quello che era accaduto per esempio nell'Europa occidentale oggi noi siamo in condizioni per certi versi analoghe perché anche adesso la società di oggi è abbastanza la società l'Occidente è abbastanza in crisi e ripiegato su se stesso ma questo ne parleremo ne parleremo tra poco quindi il fatto che un presidente democratico a tutto tondo come Biden richiami un personaggio come Reagan ci fa capire l'importanza di Reagan Reagan che pensate fu accolto da grande scetticismo in tutto il mondo perché fu banalizzato con l'affermazione che cosa ci possiamo aspettare da un ex attore la sua elezione sembrò quasi un'americanata io nel libro ho riportato alcuni commenti che apparvero sui giornali italiani unica eccezione Indro Montanelli che disse a chiare lettere Reagan mi piace mi piace mi piace tantissimo ma fu un atteggiamento di scetticismo che in tutto l'Occidente addirittura i giornalisti italiani facendo come dire scarso onore alla deontologia professionale omisero il particolare che Reagan per due mandati era stato governatore della California voi dovete immaginare che la California da sola potrebbe rappresentare una potenza economica globale sia per motivi demografici per estensione geografica e perché da sola la California fa uno dei primi dieci pill al mondo quindi questo lo dobbiamo ricordare ma tutto questo fu omesso il libro il libro e soprattutto vuole essere la storia di un uomo una storia di riscatto una storia individuale che io trovo veramente affascinante cioè la classica storia americana di una persona nata da origini molto umili nel in uno sputo dell'America che questa cittadina tampico all'interno dell'Illinois nasce sulla Main Street che è la strada simbolo della provincia americana che noi potremmo paragonare alla nostra via Roma in ogni in ogni comune italiano piccolo c'è via Roma dove appunto ci sono le attività principali e negli Stati Uniti d'America c'è la Main Street io ho percorso molte volte negli Stati Uniti d'America e mi è piaciuto soffermarmi sulle parti interne la Main Street è la strada dove c'è l'emporio dove c'è il bar dove c'è la banca dove c'è il calzolaio e dove la gente si incontra indiscute e si forma quel sentimento comune quella opinione pubblica comune che è quella profonda degli Stati Uniti d'America Reagan nasce da una famiglia di origini irlandesi con seri problemi perché il padre era un alcolizzato che perdeva continuamente il lavoro quindi la mamma si ingegna per sostentare questa famiglia perché faceva parte in una delle tante articolazioni la scuola discepoli di Cristo che era una delle tante articolazioni delle chiese protestanti e la storia è una storia di riscatto di un ragazzo che riesce ad andare al college per meriti sportivi poi diventa pensate commentatore radiofonico e ottiene un grande successo radiocronista sportivo per puro caso diventa attore e lui stesso si autodefinisce un attore di serie B perché Reagan non ebbe una carriera come dire di primo rango ma lavorò con tutti i grandi attori americani con Olivia de Allivad con Errol Flynn con tutti i grandi le grandi star del cinema americano che lo volevano come spalla proprio perché era un lavoratore che imparava con grande disciplina il copione non faceva non faceva capricci sul sette e lo faceva questo lavoro in maniera molto disciplinata il punto di svolta politico di Reagan è la sua elezione viene eletto proprio da una platea di eccezione io ho riportato i nomi dei grandi attori che erano a quel tavolo e che eleggono Reagan segretario presidente del sindacato degli attori sindacato degli attori che in America è qualcosa di molto importante perché voi sapete e qui ci sono autorevoli commentatori che conoscono meglio di me gli Stati Uniti d'America che la seconda voce dell'economia americana dopo la finanza è l'industria del cinema che adesso è industria anche delle serie delle serie televisive cioè l'industria del cinema vale come fatturato più dell'industria siderurgica negli Stati Uniti d'America quindi fare il segretario del sindacato degli attori equivale come da noi fare il segretario della FIOM cioè essere una sorta di Landini del cinema americano so che il confronto è molto azzardato ma poi il sindacato degli attori è anche un soggetto culturale perché Reagan si trova immerso per esempio nella vicenda del maccartismo dalla quale riesce a uscirne fuori con grande dignità perché non fa il delatore dei suoi colleghi ma marca una posizione molto netta da chi aveva avuto suggestioni eh suggestioni filo comunista fino ad arrivare a quel famoso discorso del millenovecentosessantaquattro quando Barry Goldwater un uomo di grande spessore culturale ma che aveva difetto di empatia politica perché in politica non basta avere soltanto sostanza e struttura ci vuole l'empatia c'è la capacità di mettersi in sintomia ehm sarei dire quasi epidermica nei confronti dell'elettorato e eh il discorso eh conclusivo di questa sfortunata campagna elettorale che vide Goldwater contrapposto a Lyndon Johnson il successore di Kennedy colui il quale era diventato presidente dopo l'assassinio di Dallas il l'inventore della Big Society della grande società assistenzialista americana questo discorso come sapete Barry Goldwater perde la campagna elettorale ma questo discorso consacra Ronald Reagan come stella del firmamento repubblicano e soprattutto come leader dei conservatori a questo punto io voglio fare un attimo un insert che viene da un altro mio libro io ho scritto la biografia di Giuseppe Prezzolini Prezzolini ha vissuto trent'anni negli Stati Uniti d'America dal 1926 al 1962 ha avuto un'importante cattedra la Columbia University dove è stato appunto il titolare della cattedra di storia della letteratura italiana e ha avuto modo di osservare molto da vicino la società americana negli anni settanta Prezzolini scrive il manifesto dei conservatori e ci dà una spiegazione del termine quasi come dire un'introspezione etimologica del termine conservatore che ci fa capire anche bene il personaggio Reagan la parola conservatore viene da una radice indo-europea Knavu chi era il Knavu Knavu conservatore era colui il quale nelle antiche tribù indo-europee perché tutti siamo discendenti di quelle tribù nomadi che si spostarono dall'Asia centrale verso l'Occidente nel 20 all'incirca intorno al 20.000 avanti Cristo ebbene era colui il quale guardava il fuoco la notte cioè faceva attenzione a che il fuoco non si spegneste perché se il fuoco si spegneva gli animali potevano animali selvatici potevano e feroci potevano assalire la tribù ovviamente questo è un simbolismo laddove per il fuoco si identificano i valori di una comunità e l'identità di una comunità e Prezzolini dice una cosa ancora molto importante che è proprio la sintesi del personaggio Reagan dice Prezzolini il progressista è la persona di domani il conservatore è la persona di dopo domani perché tocca ai conservatori innovare modernizzare una società salvaguardandole il nocciolo fondante dei valori e identitario e allora chi è che ha realizzato una rivoluzione di modernizzazione alla fine del secolo scorso chi sono stati i motori gli artefici di una grande modernizzazione sono stati due conservatori Margaret Thatcher e Ronald Reagan ciascuno nel proprio ruolo nel rispettivo paese sono stati dei modernizzatori delle loro società coloro i quali hanno conquistato punti di avanguardia delle loro società ma lo hanno fatto salvaguardando il nucleo fondante delle rispettive delle rispettive società indagando sul personaggio Reagan per esempio io ho fatto delle scoperte di fatti che non conoscevo fu ad esempio il governatore della California Ronald Reagan a gettare in California le premesse per la Silicon Valley sapete che oggi ancora oggi la Silicon Valley è il concentrato di aziende se voi scorrete la graduatoria della rivista Forbes o del Financial Times sulle prime cento corporation al mondo voi troverete almeno una decina una quindicina di aziende che sono allocate nella Silicon Valley basta dire la Apple che è a copertino o Google che pure è in quell'area geografica è colui il quale che per primo studiò e mise a punto da governatore lo sviluppo improntato all'ICT alla tecnologia informatica di quell'area geografica della California fu proprio Ronald Reagan che lì sviluppò una serie di insediamenti militari con finanziamenti militari proprio su internet e sulla rete che poi è diventato tutto quello che è diventato e quello che conosciamo quindi Reagan rompe in un momento di depressione degli Stati Uniti d'America in cui negli americani era ancora viva quella immagine di Saigon dell'aprile del 1975 quando i militari americani ripiegavano la bandiera a stelle e strisce per salire sull'ultimo elicottero che li doveva portare sulla porta aerea ed era il simbolo come dire della sconfitta della prima vera sconfitta militare degli Stati Uniti d'America gli americani avevano vinto tutte le guerre fra cui due guerre mondiali avevano vinto in precedenza le guerre contro i messicani contro gli spagnoli avevano conquistato le Filippine ebbene per la prima volta gli americani vengono in due secoli di vita di questa nazione vengono sconfitti e vengono sconfitti da una nazione quasi del terzo mondo che è appunto il Vietnam il Vietnam del Nord quindi un'America molto depressa sulla vicenda Vietnam e molto depressa da un punto di vista economico Reagan tra l'altro arriva alla presidenza degli Stati Uniti d'America nel momento di massima espansione politico-militare dell'Unione Sovietica da poco c'è stata l'invasione dell'Afghanistan i sovietici si sono stabilmente insediati in Africa perché hanno messo le mani sugli Etiopia sul Mozambico sull'Angola su Capoverde sono presenti in America Latina sono presenti in Centroamerica dove in Nicaragua sono arrivati al potere i sandinisti ebbene quindi c'era questa grande espansione politico e geopolitico militare dell'Unione Sovietica che tra l'altro aveva una superiorità schiacciante dell'armamento convenzionale in Europa e gli europei si domandavano se gli americani potessero scatenare una guerra nucleare pur di difendere l'Europa rispetto a un attacco convenzionale sovietico ebbene in questo contesto arriva nello scetticismo generale soprattutto dei cosiddetti radical chic il personaggio Reagan e Reagan sarà l'uomo che invece come dice Margaret Thatcher riuscirà a vincere la guerra fredda senza neanche sparare un colpo perché lancerà un grande programma di riarmo militare americano costringendo l'Unione Sovietica ad inseguirlo su questo stesso terreno fino a che poi dopo si creeranno quelle condizioni che porteranno all'implosione dell'Unione Sovietica ma da che era stato colui il quale aveva definito l'Unione Sovietica l'impero del male si rivelerà essere anche colui il quale fece le prime aperture i primi trattati su l'armamento strategico nucleare con l'Unione Sovietica e con Mikhail Gorbachev vale la pena ricordare che gli americani erano stati anche umiliati dall'Iran con l'invasione dell'ambasciata americana l'ambasciata americana a Teheran come riesce in tutto ciò? il fenomeno Reagan non è un fenomeno a sé stante non è una casualità mentre Trump io la definirei più una casualità politica Reagan si è costruito nel tempo attraverso un cursus sonorum viene da posizioni democratiche la sua famiglia era per così dire devota al personaggio di Roosevelt perché aveva visto la grande depressione aveva conosciuto proprio sulla viva carne la grande depressione Reagan rievoca spesso quell'episodio quando una sera di Natale il padre riceve una lettera pensando che fosse una gratifica del suo datore di lavoro invece era purtroppo la lettera di licenziamento quindi questa famiglia sprofonda nella miseria più nera da quelle posizioni Reagan pian piano si distacca e diventa come dire la faccia il volto il rappresentante la voce l'interprete di qualcosa di molto più profondo che si stava elaborando nella società americana qui abbiamo Marco Respinti che questi temi li conosce molto meglio di me ma nella società americana si era andato a costruire un movimento conservatore attraverso alcune riviste molto importanti attraverso alcuni pensatori molto importanti von Hayek che aveva lasciato l'Austria si era trasferito a Chicago era nata una scuola economica che produrrà molti premi Nobel e grandi pensatori economici bene si era creato un sostrato di conservatorismo molto importante su un piano filosofico su un piano della speculazione economica sul piano della filosofia politica e Reagan riesce a diventare l'interprete cioè questo attore viene prescelto per essere come dire il rappresentante di questo mondo cioè colui il quale deve dare poi un pragmatismo politico un'azione politica a tutto questo sedimento che si era creato pian piano e si era andato articolato adesso ve lo risparmio i nomi e quant'altro nella società nella società americana quindi in questo riesce una grande operazione da parte una grande operazione da parte di di Reagan si dice e secondo me è corretto non lo dico io ma lo dicono autorevoli commentatori che due sono stati gli artifici del crollo del comunismo Ronald Reagan e Papa Paolo Giovanni II Papa Paolo Giovanni II con la sua azione in Polonia che mette a nudo il comunismo e ne rivela la fragilità spirituale Ronald Reagan che suona come dire la carica all'occidente c'è un autore che a me è molto caro che io cito spesso nei miei libri ed Oswald Spengler autore nel 1918 di quel grande classico della letteratura filosofica che è il tramonto dell'occidente che individua come dire gli elementi di corrosione della società occidentale io questo autore lo ritengo quanto mai attuale perché le considerazioni di Spengler possono essere trasposte a quello che per esempio il regno del politicamente corretto o meglio la dittatura del politicamente corretto che sta attanagliando oggi le società occidentali ecco Reagan e la Tach rappresentarono un tentativo di riscatto dell'occidente cioè un richiamo forte ai valori liberali fondanti dell'occidente quando parlo di valori liberali mi riferisco alla loro capacità di mettere al centro del mondo l'individuo destinatario di diritti e di doveri la persona il Cives secondo quella trasposizione che ci viene per esempio dall'antica Grecia e dall'antica Roma io dico spesso che oggi nelle nostre società contemporanee il Cives il cittadino tende a degradare a codice al bar cioè si passa da una condizione di cittadino ad una condizione mera di consumatore cioè di un numero seriale che viene identificato con un consumatore ebbene Reagan rappresenta un tentativo di 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 reazione forte e di riscatto forte del dell'occidente e un richiamo poi a quelli che sono stati i valori distintivi che hanno fatto grande l'occidente e la sua civiltà di origine quella greco-romana rispetto diciamo ad altre ad altre civiltà ad altre civiltà globali l'attualità del 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 pensiero di Reagan ma sono tanti i punti di attualità che ci portano a ragionare sul sul personaggio Reagan pensate soltanto per esempio all'approccio economico a un certo punto Reagan riforma il sistema dell'assistenza ai poveri in California un po' quello che noi in questi mesi diciamo e ragioniamo per esempio sul reddito di cittadinanza ebbene Reagan riforma questo sistema stroncando un diciamo una grande diffusione assistenzialistica che veniva dagli anni di Lyndon Johnson perché lui dice io non voglio io non voglio dare una sussistenza ai poveri io voglio che i poveri abbandonino la condizione di povertà e abbiano gli strumenti per entrare nel ceto medio noi sapete che oggi lo dice la Caritas lo dice l'Istat in Italia abbiamo 4 milioni di poveri come si sarebbe posto Reagan rispetto a questi 4 milioni di poveri cioè individuando gli strumenti non dando 700 euro al mese o 700 dollari al mese a questi 4 milioni di poveri prendetevi questa mancia e state buoni lì no Reagan si sarebbe posto nell'approccio di dire vediamo come con quali strumenti io vi posso strappare da questa condizione e riportarli all'interno del ceto medio perché il lavoro non è soltanto un fatto salariale noi non lavoriamo per una mera sussistenza e questo è la profondità del pensiero liberale ma noi lavoriamo per promuovere noi stessi la nostra individualità la nostra personalità il lavoro è una sorta di continuazione della nostra persona è una proiezione nobile della nostra persona e questo credo che tutto questo sia all'interno della 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 lezione che ci può dare che ci può dare Reagan prima veniva citata veniva ricordata la curva di la curva di Laffer beh non c'è nulla di più vero della curva di Laffer cioè oltre una certa pressione fiscale il gettito di tassi a vantaggio dello Stato crolla e perché crolla perché oltre una certa pressione fiscale i cittadini non trovano più conveniente lavorare perché se uno deve lavorare per dare l'ottanta per cento del suo del suo introito allo Stato dice va bene io me ne sto a casa braccia concerte mi seggo sul sul divano e e mi riposo anziché lavorare a un certo punto Reagan dice una cosa che poi verrà rubata fra virgolette da Berlusconi Reagan dice dovremmo individuare sul calendario un giorno da rendere festa nazionale che dobbiamo chiamare giorno della liberazione fiscale che significa giorno della liberazione fiscale quel giorno dell'anno in cui noi smettiamo di lavorare per pagare le tasse e cominciamo a lavorare per noi stessi e per le nostre famiglie per poter acquistare qualcosa per noi e per le nostre famiglie quindi il giorno della liberazione il giorno della liberazione fiscale ma al di là del valore etico di questa affermazione Reagan individua una questione principale cioè dice le troppe tasse chiudono una società chiudono soffocano lo sviluppo economico mentre abbassando le tasse si liberano grandi forze in termini di investimento in termini di innovazione in termini di ripresa economica e infatti gli hanno dato ragione sapete che negli anni di Reagan gli Stati Uniti sono quasi sempre non del tutto cresciuti certo ci furono delle criticità per esempio Reagan e questo fu sempre un suo cruccio dobbiamo dirlo non riuscì mai ad abbattere del tutto il debito americano ma certamente furono anni di grande innovazione in Italia si in una famosa trasmissione televisiva con Renzo Arbore si cercò di dileggiare quegli anni inventando la formula dell'edonismo reganiano vi ricordate in quelli della notte si parlava di edonismo reganiano però oggi guardando con gli occhi di oggi quell'affermazione è quasi un complimento edonismo reganiano oggi c'è una grande nostalgia anche nei giovani di adesso oppure nelle persone della mia età c'è una grande nostalgia degli anni 80 ripensati come anni felici come anni spensierati ebbene quegli anni 80 furono profondamente marcati da un personaggio da un personaggio come regan e la sua azione e mi avvio alla conclusione diciamo la sua azione non fu solo per gli Stati Uniti d'America perché quella carica di ottimismo che regan instillò nella società americana poi si sparse in tutto in tutto l'occidente gli anni 80 sono gli anni che in Italia vedono l'arrivo alla presidenza del consiglio prima di Giovanni Spadolini primo presidente del consiglio non democristiano poi successivamente gli anni abbastanza lunghi dei governi di Bettino Craxi beh quella Italia cresceva quasi al 4% di PIL cioè cifre che oggi ci siamo assolutamente dimenticati erano gli anni in cui l'Italia diventava la potenza economica della moda in cui si parlava di un ipotetico sorpasso vero ambasciatore terzi dell'Italia nei confronti della Gran Bretagna si diceva che l'Italia non solo aveva superato la Spagna la Francia ma addirittura insidiava nelle classifiche mondiali dell'economia mondiale addirittura la Gran Bretagna comunque erano gli anni in cui gli imprenditori italiani io ricordo benissimo una copertina dell'Express magazine francese che mise in copertina De Benedetti e Agnelli perché erano gli anni in cui De Benedetti addirittura tentava la scalata a importanti società francesi alla cassaforte dell'industria francese e Mitterrand fu costretta ad intervenire con i soldi dello Stato francese per fermare l'ascesa di De Benedetti quindi anni tutto sommato di grande espansione e consolidamento dell'apparato industriale ed economico italiano e questo lo si deve a quell'ottimismo che dagli Stati Uniti d'America attraversò l'oceano e riuscì a pervadere tutto l'Occidente grazie della vostra attenzione grazie direttore assolutamente condivisibile tutto l'intervento cercando però di non dimenticare anche che gli anni del governo Caxi in generale sono anche gli anni che hanno creato l'esplosione del debito pubblico e quindi quello che purtroppo ci stiamo portando avanti anche adesso quindi sicuramente c'è stata una rivoluzione in qualche modo culturale ma dal punto di vista dell'approccio della politica economica ecco credo che quelli abbiano creato qualche problema però concordo che dal punto di vista della trasposizione italiana non avendo all'epoca un centrodestra diciamo così anche il concetto stesso di centrodestra difficile quello che probabilmente incarnava di più era sicuramente Vittino Caxi prima di lasciare la parola a Marco Respinti che ringrazio per essere tornato con noi e ho ritrovato questo nostro libro che citava anche prima il direttore Ronald Reagan è un americano da Casa Bianca e ti ringrazio perché all'epoca quando venne a Lodi la dedica con stima e amicizia per la buona battaglia come vedi dal 2016 la buona battaglia la stiamo continuamente portando avanti prima di cerchi la parola vorrei lasciare la parola a Ronald Reagan nell'ultimo discorso pubblico che fece che secondo me racchiude esattamente che cosa era qualunque cosa si dirà su di me quando ne sarò tra il 17 e il 20 agosto del 1992 per lanciare la riconferma di George Bush qualunque cosa si dirà su di me quando me ne sarò andato spero che mi si riconoscerà che ho fatto appello alle vostre migliori speranze non alle vostre peggiori paure alla vostra fiducia piuttosto che ai vostri dubbi il mio sogno è che ciascuno di voi percorra la propria strada guidato dalla luce della libertà la mia speranza più viva per ciascuno di voi e soprattutto per i giovani è che ammiate il vostro paese non per il suo potere o per la sua ricchezza ma per il suo altruismo e per il suo idealismo ecco ricordarsi che Regan è stato esattamente l'opposto perché Regan è stato quello che ha dato la speranza il sogno la fiducia e quindi credo che quello ci sia questo è uno degli tanti aspetti dell'insegnamento reganiano di cui oggi ne abbiamo un disperato bisogno in Italia ma non solo in Italia Marco a te grazie di essere tornato grazie a voi di avermi rivoluto su questi schermi ormai dobbiamo dire così e grazie soprattutto quindi grazie all'Odi Liberale di aver organizzato questa importante serata grazie agli importanti relatori a cui mi trovo affiancato e quindi ovviamente grazie al direttore San Giuliano per aver scritto questo libro non è un ringraziamento retorico dovuto sono qui devo dirlo no esattamente il contrario perché è facile dirlo da un certo punto di vista la bibliografia italiana su un personaggio straordinario cioè fuori dal comune come Ronald Reagan non è che proprio abbondi ed uso un understatement quindi il libro del direttore San Giuliano arriva a colmare a iniziare evidentemente non nemmeno ne vorrà si usa questa questa espressione a iniziare a colmare doverosamente un buco che grida che grida vendetta noi siamo di fronte l'autore lo ha ricordato ma noi lo continuiamo a ricordare volutamente questa serata siamo di fronte a un personaggio che forse e uso il forse giusto così per per modo di dire è stato il più grande il più importante il più decisivo presidente della storia degli Stati Uniti non sono in vena di buttade per cui questa sera siccome siamo qui uso questa questa frase credo di averlo usata diverse volte l'ho usata in Rai l'ho usata per iscritto ed è documentabile a parte che mi ricordo un sondaggio fatto fra studenti americani e stranieri negli Stati Uniti a cui ero presente e a domanda a scrutinio segreto chi è il presidente più importante ero con nepalesi vietnamiti italiani francesi americani Reagan ha vinto a mani basse ma è facilmente documentabile perché di presidenti importanti degli Stati Uniti ne ha conosciuti di presidenti significativi oso dire nel bene e nel male ne ha conosciuti tanti ma la misura della sfida che Reagan si è trovato a dover affrontare dalla misura della sua grandezza anche perché le sfide questa volta le ha vinte non ci si è solo confrontato le ha vinte la sfida è duplice il comunismo internazionale che vorrei ricordarlo da questi schermi lo posso fare ma lo faccio anche da schermi più politicamente corretti è stata la più grande catastrofe umana inflitta dall'uomo a se stesso cento and counting dicono gli americani di milioni di morti una cosa che non riusciamo neanche a immaginarci da cento milioni di morti ed è un problema che pare essere completamente rimosso con una macchina bellica statale un apparato spionistico un apparato di infiltrazione un apparato di colonizzazione noi in Italia ne sappiamo qualcosa di media di partiti di movimenti terroristici e quant'altro che nella storia umana tutti insieme non si sono mai dati allora Reagan di fronte a questa sfida l'ha affrontata l'ha voluta affrontare non ci si è sottratto e l'ha vinta e l'altra sfida ma è la faccia della medesima medaglia l'avete ricordato l'ha ricordato molto brillantemente il direttore San Giuliano l'hai ricordato tu Lorenzo Desordio la sfida interna una battaglia per riaffermare l'identità autentica degli Stati Uniti in un momento di minimo storico avete ricordato giustamente tutti gli episodi che avevano demoralizzato uso apposta questa parola perché era la parola su cui giocava Reagan ridare rispettabilità ridare moralità rincurare nel senso latino del termine gli Stati Uniti una duplice battaglia una duplice sfida enorme perché comunismo grande quanto detto gli Stati Uniti grandi quanti possibili possiamo immaginarle questa doppia sapete che Hitler e Napoleone ci hanno insegnato che non si combatte mai su due fronti contemporaneamente perché si perde lui ha combattuto su questi due fronti e ha vinto come definire un presidente di questo genere se non il più portante della storia americana certo Lincoln ma la guerra civile americana rispetto al confronto con il comunismo è stato un bene altro certo George Washington che ha avuto a che fare con uno stato nascente nel senso fisico la nazione nascente ma gli inglesi quanto successo allora non è da paragonare con la sfida a cui si è trovato Reagan e quindi di fronte a questo personaggio così il fatto che non esista o esista pochissimo su di lui che ce lo restituisca nella sua rotondità e che ce lo descriva è una grave mancanza il libro del direttore San Giuliano comincia ed è un complimento molto forte comincia a raccontarci questa storia che sembra scomparsa sembra che stiamo parlando di chissà chi io non so quando i libri di storia cominceranno a essere scritti quelli delle scuole a essere scritti come Dio comanda e quindi si darà a Cesare quel che è di Cesare a Reagan quel che è di Reagan ma sicuramente a quel giorno il libro del direttore San Giuliano avrà contribuito molto uno dei pregi di questo libro è di raccontarci Reagan l'uomo e Reagan poi il politico come è stato raccontato sfatando il direttore San Giuliano questa sera ci ha cominciato ad aiutare ma il tempo poi è poco quindi invito a leggere il libro sfatando l'idea che esistano sfatando due miti che esistano due Reagan il Reagan attore il Reagan che nasce povero il Reagan di un certo tipo che poi a un certo punto si trova catapultato in un mondo più grande di lui lo interpreta e diventa il presidente che ho definito più importante del mondo e l'altro falso mito che però è la stessa è una versione del primo è che Reagan piombi da Marte in un deserto che in qualche maniera è così siccome era disabitato lo abita a lui ripeto il direttore San Giuliano nel libro lo illustra bene questa sera ci ha aiutato a cominciare a raccontare questa storia e vorrei soffermarmi proprio su questo Reagan proprio come veniva detto prima essendo nella voce di bilancio americano il cinema voce molto importante il fatto che Reagan sia stato un attore non serie B serie C serie A come dire possiamo discutere da critici cinematografici io non lo sono quindi non mi avventuro ma il fatto che abbia interpretato una parte di quel mondo lo mette immediatamente al centro del proscenio americano dentro la Hurtland l'America del cuore l'America che sta nel cuore nel centro delle cose non è periferico nella biografia di Reagan nell'essere venuto dal mondo del cinema perché sul piano economico il cinema rappresenta quello che è stato efficacemente ricordato perché il cinema rappresenta sul piano economico quella voce importantissima perché il cinema è stato ed è uno strumento in America di cultura e di formazione perché è stato utilizzato in questa maniera è stato voluto in questa maniera se voi pensate semplicemente all'epopea western di cui sono un grande estimatore per ragioni spero culturali abbastanza profonde l'epopea western è il racconto di una delle fasi decisive della storia americana successiva alla guerra civile una grande epopea del western viene dopo la guerra civile quindi dopo la grande rottura dopo la grande spaccatura si pone anche come elemento di riconciliazione nazionale dite se è poco un uomo che viene da quel mondo non è un parvenuto ed è proprio con quel mondo venendo da quel mondo che entra nella nella storia americana da signore in molti sensi come ha fatto Reagan mi è piaciuto tantissimo quando il direttore San Giuliano ha ricordato le origini umili povere di di Reagan a Tampico perché quella quell'America che lui ha descritto di Main Street è l'America che mi ha fatto innamorare dell'America a decidere di studiarla uno dei maestri dell'epoca Goldwater e Reagan che indegnamente mi annovero fra i miei maestri di cui ho tradotto un paio di libri di Russell Kirk viveva in un paese in mezzo ai boschi del Michigan fatto di Main Street dove mi sono trovato più volte a passeggiare insieme a lui e poi anche quando lui è scomparso a studiare nella sua biblioteca ed è quello che davvero ha ragione il direttore davvero ti fa capire che cos'è l'America certamente New York che è una città molto bella per alcuni aspetti , certamente Washington sede del potere federale sicuramente la California di Silicon Valley di tutte le cose belle e brutte che conosciamo ma quell'America che è fra parentesi le tue coste e che sta in mezzo i flying over state sono il polso dell'America vera Reagan viene dalla California quindi da una delle due parentesi ma da un angoletto un po' molto più simile all'America del cuore ed è un americano ecco perché nel mio libro non lo citerai se non l'aveste citato voi il titolo l'abbiamo voluto dargli a suo tempo è un americano alla Casa Bianca che vuol dire un uomo di mainstream di mainstream scusate che finalmente arriva alla Casa Bianca ed è il coronamento del sogno americano cioè un uomo un americano vero che finalmente governa in questo paese fatta di americani veri e quindi lo ritrasformerà nel limite del possibile in un paese di americani veri l'altra cosa su cui vorrei credo di avere ancora qualche minuto ricordare è che perdonatemi non è per esterofilia ma è già stato detto quindi mi sento confortato un certo provincialismo del nostro mondo culturale e giornalistico dell'epoca che rideva appunto al cowboy prestato alla politica all'attore che veniva dal nullo provincialismo non ho paura di ripeterlo questo libro che prima sono sparito un attimo da telecamera perché mi sono chinato ricordavo dove era nel mio disordine nella mia biblioteca sono andato a recuperare questo libro che vi mostro adesso lo vedrete al contrario che porta la firma di Stanton Evans scomparso qualche anno fa pochi anni fa il decano del giornalismo americano del giornalismo in qualità quindi se volete se mi permette siete un collega che nel 1968 quando scrive questo libro lo intitola il futuro del conservatorismo l'avete detto prima da Taft a Reagan e oltre siamo nel 1968 la copertina è una una parodia una parafrasi del monte Rushmore in cui vedete comparire niente meno che Reagan insieme a Goldwater e insieme a Nixon nel 1968 il mondo che allora già aveva imparato a definirsi conservatore era nato il movimento su cui dico due parole ancora poi in chiusura aveva individuato in Reagan l'uomo del futuro lo aveva indicato ci scriveva i libri lo impegnava in qualche modo si attendeva che Reagan in qualche maniera convocato in questo modo pubblicamente platealmente rispondesse come dicevano i padri latini ad sum ci sono presenti siamo nel 68 bastava fare un giro in biblioteca certo non c'era Amazon via dicendo il modo per non essere provinciali per non raccontare un Reagan venuto da Marte c'erano perché nel 68 sono poi usciti una serie di altri studi di altri lavori di che cosa stiamo parlando stiamo parlando in giocoposta devo ricitarlo anche perché sia stato già abbondantemente illustrato e degreggiamente quel disastro glorioso come lo chiamò nel 2006 un bel libro dell'ambasciatore William Middell il disastro glorioso che portò nel 1964 Barry Goldwater alla sconfitta Barry Goldwater molto brevemente Barry Goldwater scende in campo una frase fatta del mondo di oggi Barry Goldwater scese in campo per provare a interpretare un'America che non era rappresentata dalla politica scese in campo nelle fila del partito repubblicano ed è vero che perse il confronto enorme con Lyndon Johnson anche sull'onda lunga dell'emozione dell'assassino di Kennedy siamo nel 64 Kennedy era stato ucciso a Dallas nel novembre 63 il giorno prima quasi in termini politici da questo shock incredibile certamente Goldwater perde contro Johnson ma prima ancora vince ma sudando le fatidiche sette camicie contro il proprio partito per guadagnare la nomination a rappresentare il partito repubblicano perché il partito repubblicano non è pronto per Goldwater perché il partito repubblicano è un partito repubblicano che non è quello di Newt Gingrich nel 1994 non è neanche quello di Trump non è quello di oggi è un partito repubblicano molto molto diverso in cui si sono segnalati nei decenni precedenti alcuni nomi per esempio il senatore Robert Hart ma è una mosca bianca Goldwater re delle mosche bianche sfida il proprio partito perché trova un elettorato e sulla spinta di questo elettorato fa quella cosa mi perdoneranno i politici all'ascolto che di solito i politici non fanno mai non piega a se stesso un elettorato ma si piega se perdonatemi si inginocchia un elettorato e si mette al servizio Goldwater fa questo il suo partito non riesce ad arginare deve piegarsi esso stesso a conferirgli la nomination praticamente sicuro della sconfitta che poi avviene ma è un disastro glorioso diceva quel libro di Middeldorf del 2006 tenete presente che quando noi abbiamo sentito raccontare di Trump che sarebbe un emissario del Ku Klux Klan via dicendo queste stesse cose o dei pamphlet d'epoca venivano dette nel 64 di Goldwater quindi storia se vogliamo vecchia ma disastro glorioso perché quel mondo quel popolo che aveva trovato in Goldwater e Goldwater aveva trovato quel popolo quell'elettorato e che avevano cominciato a scrivere una storia nuova non si smembra continua già per scrivere mi piacerebbe stare con voi delle ore ma quando noi parliamo di movimento conservatorio il termine movimento nasce in quegli anni nel 62 63 64 65 66 grossomodo prima il conservatorismo era ho citato prima Russell Kerr era il parto di 10 15 intellettuali che fecero cose straordinarie cioè scrivere libri di fondazione ma il movimento non esisteva il movimento comincia a esistere quando incontra anche un'espressione politica che se ne possa fare interprete appunto Goldwater Goldwater perde quel mondo però non si non si non scompare vengono create le grandi quelle che noi conosciamo poi dopo come grandi fondazioni cioè quei think tank che sono serbatoi di pensiero per allevare giovani generazioni nascono riviste nascono ambienti nascono tante cose avete ricordato giustamente il discorso Time for Choosing The Speech del 27 ottobre del 1964 e quello è davvero il suggello di Reagan il suo titolo poi diventa noto come The Speech il discorso ma il titolo è Time for Choosing il momento della scelta quando è il momento della scelta per Reagan è una vita ha continuamente scelto quel tipo di posizione e l'ha interpretata ma il momento che pochi ricordano successivo a Time for Choosing è poche settimane dopo primo dicembre 1964 Reagan facendo eco a se stesso con quel discorso scrive su National Review che è il più grande la casa comune del giornalismo conservatore come l'ho definita primo dicembre 1964 scrive un articolo brevissimo intitolato The Republican Party and the Conservative Movement il movimento conservatore e il partito repubblicano che per allora oggi è quasi un endiadi per allora era veramente una cosa strana anche perché su quella scommessa di appaiare questi due termini Goldwater ci aveva rimesso le penne politiche Reagan raccoglie la bandiera e la rialza dicendo non credo sostanzialmente un parapro insomma questo è il senso non credo che la nostra causa meriti la sconfitta quindi mi candido a rispondere è lì che poi nascono i libri del 68 poco dopo che lo vedono aveva già risposto in qualche maniera Goldwater e lì comincia una cavalcata una rimonta del Goldwaterismo certamente c'erano tutti quei motivi di antipatia personale di Physique du Rol mancante in Goldwater che invece in Reagan sono presenti sono molto forti sono coltivati vengono anche dalle sue sofferenze dalle sofferenze patite personali Reagan a portare il Goldwaterismo o l'intuizione Goldwateriana al centro della nazione al vertice della nazione al governo della nazione e ci mette non un giorno non una settimana non 16 giorni ma 16 anni 1964 1980 ancora una volta Reagan non è un marziano caduto dal cielo non sarebbe stato possibile se quel mondo nato o raccoltosi attorno a Goldwater fosse scomparso non solo non scompare ma riprende forza riprende fiato si riconosce si lecca le ferite risana le spaccature ce ne sono tantissime non è questa sera il luogo ma è capace di ricompattarsi e sul piano politico voglio rendere onore alla memoria di un uomo molto speresso distrattato e come Reagan deriso Richard Nixon è l'artefice di quella che è stata chiamata Southam strategy la strategia di guadagnare a un partito repubblicano che ha cominciato una svolta in senso conservatore grazie a Goldwater e che viene proseguita da Reagan tutti quegli stati della Bible Belt della cintura del sud ex confederazione sudista se mi permettete il richiamo che storicamente non voterebbero mai non voteranno mai non vorrebbero mai votare per il partito di Lincoln evidentemente d'accordo in maniera studiata con Reagan sull'eredità Goldwater Goldwater non scompare muore nel 2009 quindi è presente sotto traccia in tutto questo periodo Nixon fa il miracolo sostanzialmente convince della proposta politica Goldwater barra Reagan gli stati del sud e lì cambia cambia la storia degli Stati Uniti perché quando nel 1980 questo marziano che non è un marziano arriva al culmine di questa storia al vertice degli Stati Uniti ha dietro di sé una forza che nessuno ha mai avuto e fa una cosa credo da libro di storia inizia la riconciliazione nazionale i democratici per Reagan che cambiano partito o che cambiano voto e che cominciano a guardare a questo uomo che è sia un repubblicano ma che come dire è più che un repubblicano non è un uomo è un uomo di parte ma è più che un uomo di parte perché sta riparlando dello spirito originario dello spirito se volete del pioniere del cowboy che è quello che ha animato della main street come è stato detto brillantemente prima è l'uomo che riesce a convincere oltre gli steccati ideologici allora Reagan è davvero l'uomo più importante il presidente più importante della storia americana ha vinto il comunismo ha vinto la sfida interna ha riportato il paese a se stesso per il futuro uno dei miei maestri ha cognato l'espressione bellissima nostalgia dell'avvenire ecco Reagan l'ha incarnata permettetemi non l'avrei fatto se non mi aveste provocato evidentemente in senso buono io chiudo leggendovi una piccola cosa di Goldwater perché descrive quello che ha fatto Reagan perfettamente anni prima non prima di aver dimenticato perché è la sera l'ho voluto interpretare così è la sera degli unsung heroes degli eroi che nessuno canta che sono stati dimenticati perché è stato io e altri hanno ricordato il confronto apparentemente impari di Reagan dell'Occidente capitanato da Reagan con il comunismo uno degli elementi importantissimi di questo confronto che porta alla vittoria lo sappiamo ormai tutti bene l'Occidente capitanato da Reagan è quel famoso progetto di scudo stellare che come sapete benissimo era uno stupendo bluff a poker da Billy Cook sostanzialmente e non so quanti purtroppo ricordano che il vero artefice colui che sussurra fisicamente all'orecchio di Reagan quello che in realtà si chiamava Strategic Defense Initiative lanciato nel 1983 porta il nome di Angelo Codevilla sta in California ma è nato a Pavia parla italiano e dialetto pavese in maniera straordinaria coltiva della vigna meravigliosa ed è colui che alla scuola dei suoi maestri Leo Strauss da una parte Gerhard Niemeyer sfuggito alla barbarie nazista in Germania per arrivare negli Stati Uniti ha sussurrato quell'idea fantastica di prendere perdonatemi cerco di non essere mai in volgare per i fondelli letteralmente l'Unione Sovietica farla cascare nella trappola spingerla a un parossismo tale che l'ha fatta corollare e l'esito meraviglioso è Mr. Gorbachev Tear Down This Wall che vi ricordate tutti evidentemente che mette i privilegi vi avevo promesso questa citazione Goldwater prima Lorenzo ha citato quel bellissimo passo del vero conservatore che in originale in inglese il titolo è La coscienza di un conservatore la coscienza è l'ultimo tribunale che nessuno ci può mai portare via è una meraviglia la coscienza del conservatore è di una rotondità straordinaria nella traduzione di allora fatta dall'edizione del Borghese di Henry Furst quindi la leggo con quella traduzione italiana affascinantemente vecchiotta ma è bellissima dice perdonatemi leggermente lunga ma descrive cosa ha fatto Reagan in una maniera straordinaria al vertice di questo di questo movimento diventando sicuramente il presidente più importante degli Stati Uniti Goldwater scrisse le antiche e provate verità che guidarono la nostra Repubblica durante i suoi primi giorni basteranno ottimamente anche per noi mi risulta che l'America è fondamentalmente una nazione conservatrice il giudizio preponderante del popolo americano specialmente della gioventù è che l'esperimento americano sia radicale o liberale e che non funzioni non abbia funzionato che non funzioni il desiderio di un ritorno ai principi conservatori è quindi oggi largamente diffuso siamo quotidianamente consegnanti da commentatori illuminati all'oblio politico sembra di sentire l'Italia il conservatorismo ci dicono è antiquato l'accusa è assurda scrive Goldwater e dovremmo dirlo con audacia le leggi di Dio e della natura non portano date i principi sui quali si fonda la posizione politica conservatrice sono stati stabiliti da un processo che non ha nulla a che fare con il paesaggio sociale economico politico il quale muta di decenni in decenni e da un secolo all'altro questi principi sono derivati questo è il programma con cui Goldwater si presenta la nazione e che Reagan riprende portandolo a successo questi principi sono derivati dalla natura dell'uomo e dalla verità che Dio ha rivelato intorno alla sua creazione e le circostanze si mutano e così anche i problemi che sono plasmati dalle circostanze ma i principi che governano la soluzione dei problemi non possono cambiare insinuare che la filosofia conservatrice sia antiquata sarebbe dire che i dieci comandamenti o la politica di Aristotele siano antiquati il metodo conservatore di affrontare i problemi consiste semplicemente nel tentativo di applicare la saggezza l'esperienza e le verità rivelate del passato e i problemi d'oggi il futuro del conservatismo l'avete detto il conservatore è l'uomo di non domani di dopo domani non si tratta di trovare nuove diverse verità ma di imparare come le verità stabilite che possono applicarsi ai problemi del mondo contemporaneo grazie al direttore San Giuliano per aversi finalmente restituito questo uomo straordinario speriamo in altri libri su Reagan come questo grazie grazie a Marco Espinti sicuramente al sol dell'avvenire preferiamo la nostalgia dell'avvenire quindi questa è una citazione che non avevo mai sentito diciamo che prima di lasciare la parola al passato Terzi di Sant'Agata ci ha ricordato l'importanza della battaglia delle idee e noi che siamo tutti fuorché keynesiani una cosa giusta Keyes l'aveva detta le idee degli economisti e dei filosofi sostanzialmente sono quanto di più duraturo impatta sulla vita delle persone letteralmente le idee degli economisti e dei filosofi sia quando sono giusti sia quando sbagliano sono più forti della conoscenza della gente comune invece il mondo non è governato da qualcosa di diverso gli uomini politici infatti credono erroneamente di essere esenti da influenze intellettuali e sono di solito schiavi di qualche economista defunto questo per capire perché come già stato sottolineato in maniera perfetta va preparato un discorso un terreno ideale per dare poi voce a quella che poi era la vera e propria maggioranza silenziosa che sulla base di un'elaborazione intellettuale di una diffusione delle idee di un movimento quindi di un raccorpamento di persone arriva a quello per cui Reagan è stato assolutamente maestro cioè quello da essere il rappresentante principe di quello che è stato chiamato il fusionismo e quindi raggruppare tutte le varie anime della destra americana con una guida con un faro guida chiaro liberale da questo punto di vista e per dimostrare invece torniamo alla politica estera come come dire i comunisti in generale e soprattutto l'unità non ne abbiano mai beccata una questa è perché si ricordava che cosa è stato citato questa è la prima pagina dell'unità quando è stato eletto Reagan potete notare la lungimiranza e l'approccio assolutamente laico inquietudine nel mondo per la vittoria di Reagan si fa pressante la necessità di nuove iniziative di pace un'America delusa in crisi esprime un voto essenzialmente negativo quando si dice non capire praticamente nulla di quello che sta accadendo ma ne era già capitato quando era morto Stalin quindi diciamo che da questo punto di vista la parte fondamentale quindi credo che sarà quella su cui non ci siamo messi d'accordo ma penso si concentrerà l'ambasciatore è quella della sconfitta di quello che Reagan ha chiamato l'impero del male quindi del comunismo e quindi vi lascio la parola citando parte proprio breve va citata nel libro del discorso di Reagan il 12 giugno 1987 davanti alla porta di Brandeburgo segretario generale Gorbaciov se cerchi la pace se cerchi prosperità per l'Unione Sovietica e l'Europa Orientale se cerchi la libertà vieni qui a questa porta signor Gorbaciov apri questa porta signor Gorbaciov abbatti questo muro ambasciatore a lei grazie molte grande piacere essere con voi sono state dette delle cose così importanti che penso di questi pochi minuti conclusivi di dovermi soffermare soprattutto su un aspetto che ritengo di grande fascino nel libro questo libro così come concepito ma anche come altri scrive il direttore San Giuliano in particolare quello su Putin su Xi Jinping seguono una traccia che un celebre autore greco diceva noi scriviamo le vite per scrivere la storia e è questo senso di fare non soltanto le biografie ma fare attraverso gli uomini rendere far capire la storia in quel senso crociano che è stato giustamente evocato di vedere nella storia qualcosa di estremamente attuale come toolbox come cassetta degli attrezzi che abbiamo nelle nostre mani per poter gestire le situazioni e cercare di capire quello che sta avendo attorno a noi nella realtà geopolitica nella politica dei nostri paesi nei grandi movimenti sociali ecco per cercare di capire e quindi di esprimere delle politiche in grado di servire il bene comune ecco questo senso è dato dalla è riflesso benissimo da quella che è l'estrema attualità del personaggio Ronald Reagan oggi è un'estrema attualità che si collega addirittura a delle situazioni geopolitiche che sembrano quasi ripetersi i tre antagonisti soprattutto due antagonisti fondamentali sono stati ampiamente evocati unione sovietica quindi la realtà l'unione sovietica la federazione russa di oggi è una cosa ben diversa dall'unione sovietica di allora ma indubbiamente raccoglie una tradizione imperiale che se non è basata su credo comunista si rifà comunque alla grande Russia che era pure uno degli elementi storicamente importanti per l'affermazione del ruolo di leadership nell'internazionale comunista della Russia e l'altro grande antagonista cioè altra seconda potenza revisionista non come la Russia revisionista sul piano globale ma revisionista perlomeno sul piano regionale ma forse anche sul piano globale dato che intende essere il simbolo della preeminenza scita nel complesso nella galassia del movimento musulmano islamico mondiale è l'Iran questi erano i due grandi problemi che Reagan si è trovato davanti nel momento in cui diceva l'unità un'America indebolita disorientata il titolo dell'unità che ha fatto ha fatto vedere il vice sindaco Maggi che ringrazio moltissimo per questo evento così importante di questa sera era effettivamente frastornata ma frastornata dai fallimenti della presidenza Carte fallimenti sul piano economico infatti Reagan riporta l'inflazione dal 12 e mezzo al 4,4% la disoccupazione dal 7 e mezzo anche lì attorno al 4 o 5% quindi un risanamento economico un rilancio dell'economia estremamente considerevole e soprattutto Carter il fallimento della politica estera anche sfortunato voglio dire perché dopo 400 e passa giorni di prigionia dei 56 ostaggi americani nell'assemblea occupata dai Pasdaran quell'esperienza determinata da cattive condizioni climatiche ma sicuramente da cattiva pianificazione della pattuglia di elicotteri che era andata un'operazione che doveva essere un'operazione blitz per liberare gli ostaggi che invece era fallita miseramente quindi per non parlare poi di tutte le volontà di appeasement espresse da Reagan un po' dappertutto nel mondo che avevano visto gli Stati Uniti spesso in difficoltà e retrocedere rispetto alla forte pressione che è stata ampiamente spiegata dagli interventi precedenti in tutto il mondo di questa volontà assertiva di un impero comunista sovietico ma anche cinese e questo è il terzo interlocutore della Cina lo metto perché anche già all'epoca di Reagan nel momento in cui correva nel 76 c'era stato l'episodio del suo tentativo di entrare in lizza per le primarie democratiche in contrapposizione a Ford che invece non gliel'ha consentito ma proprio in quel periodo nel 76 nel momento in cui Reagan stava cercando di inserirsi fallendo poi quella volta lì ma poi ci riprova successivamente con grande successo ma in quel momento nella competizione delle primarie su Ford la difficoltà di Reagan è tale che gli viene consigliato da Kissinger di entrare di dedicarsi alla politica estera in modo diretto e molto visibile e questo lo spiega bene il libro per cui inizia due viaggi importanti il primo all'esterno della realtà della Cina comunista ma in tutti i paesi che già allora a metà anni settanta non era passato in molti anni dall'apertura dalla riscoperta della Cina da parte dell'amministrazione Nixon ma già in quel momento ci si poneva il problema Washington di rinsaldare i collegamenti di spiegare soprattutto i principali alleati americani dell'area Giappone la Sud Corea le Filippine e tutta la parte del sud-est asiatico di spiegare che l'America aveva fatto quella mossa con una strategia di insieme che guarda caso è stato proprio Reagan in quella missione ad andare a rappresentare riscuotendo anche un notevole successo personale poi farà una visita in Europa sempre prima di partecipare alla successiva corsa mentre era sempre governatore della California ma dico questo perché c'è un elemento molto affascinante dal mio punto di vista nel vedere come questo personaggio che è stato volutamente disinterpretato nascosto oggetto di una narrativa completamente distorcente al momento della sua elezione e anche negli anni successivi è stato un presidente americano come è stato detto di grande popolarità interna ma un gigante nella storia dell'America del ruolo dell'America nel mondo quindi è stato il presidente che ha determinato in una fase molto significativa della crescita di potenza americana e di arrivo a quel momento poi l'anno dopo del termine della sua presidenza nell'89 crollo del muro di Berlino ma crollo del muro di Berlino che qualcuno che moltissimi hanno oramai narrativa prevalente è quella che l'Unione Sovietica è finita lì sappiamo bene che il crollo del comunismo sovietico è finito invece ha iniziato a finire con i movimenti nell'81 di Danzica che successo l'uscita in pubblico è molto assertiva di Solidarshnok e l'aiuto e il sostegno di Giovanni Paolo II quindi questa combinazione di elementi nella grande impresa americana dell'America di Reagan di vincere senza si dice che la Nato è la più grande alleanza del mondo quante volte l'abbiamo sentito ed è giusto a mio avviso perché ha vinto una guerra la guerra fredda senza sparare un colpo ma questo è avvenuto grazie a Reagan grazie a Reagan che è stato un uomo di idee ancora prima che è d'azione è stato sicuramente un uomo d'azione un politico maturato on the job come si dice ha avuto come accennavo prima l'episodio delle primarie col presidente Ford e anche alcuni passi falsi forse durante la stagione precedente mentre oramai stanco di fare il governatore della California aveva era uscito ben descritto nel libro era uscito con una una dichiarazione di interesse e di volontà di partecipare alla corsa presidenziale senza aver preparato un retroterra sufficiente aveva addirittura stupito persino Nancy Reagan quando aveva sentito quella dichiarazione quindi alcuni passi falsi li aveva fatti sul piano della politica federale nazionale per la corsa alla presidenza ma poi ha dimostrato una grandissima maturità e la capacità di crescere la capacità di crescere come grande statista e grande leader politico il che non vuol dire naturalmente che questo accenno che faccio alla formazione del presidente Reagan in tutte le stagioni della sua vita che fosse già all'inizio già da da ragazzo quando si era impegnato nei primi nei primi lavori da attore ma poi soprattutto come presidente del sindacato degli attori ruolo molto molto delicato aveva dimostrato di essere un leader nel suo ambito allora e nell'ambito complessivo della politica americana più tardi un leader di forti connessioni maturate da idee testate testate con il rapporto con grandi personalità del mondo dell'economia della finanza del mondo dell'accademia e un uomo di cui abbiamo vissuto purtroppo in Italia e anche o dovunque i media sono così influenzati o appartengono a degli schieramenti di politica di corretto o di volontà di dimostrare che esistono solo l'intelligenza esiste solo da una parte dello schieramento politico e culturale è stato dipinto come personaggio così semplice una sorta di cowboy entrato in politica eccetera veramente niente di tutto falso il libro di San Giuliano rende giustizia riempie un vuoto e mette veramente un punto di grande significato culturale oltre che politico dicevo ancora l'attualità affascinante di quest'uomo innanzitutto nell'affermare per tutto il suo percorso da presidente ma anche da prima mi riferivo prima alle alle battaglie che ha dovuto fare in pieno maccartismo per evitare la demonizzazione di un'intera categoria di attori che lui aveva il diritto di difendere ma non faceva l'affocato difensore perché voleva stare in cima alla piramide sindacale del screen actors guilt di Hollywood non era questo il motivo il suo motivo era affermare l'idea di libertà e anche di rispetto delle opinioni delle opinioni personali e anche delle posizioni politiche personali sono interessanti alcuni passaggi nei quali si ricordano anche gli incontri l'interrogatori le testimonianze che gli sono state richieste dalla commissione congressuale sulle attività anti-americane nelle quali lui ha difeso anche gli stessi attori che erano in odore di comunismo non ha accettato di entrare in quella logica nella logica di una repressione culturale e di repressioni di idee che un vero liberale come lui non poteva assolutamente accettare lui li difende e addirittura si porta a dire che sì forse c'è un 1% di persone che sono da quella parte ma che non sta a lui assolutamente giudicarle che sono persone che anzi dovrebbero essere recuperate perché quello che importa è affermare il metodo democratico diceva Reagan in quella circostanza cioè diceva io mi auguro che le leggi della democrazia il metodo della democrazia possa eliminare completamente la nocività e la minaccia di chi pensa che si può dominare un'organizzazione grande con piccoli gruppi e con metodi bolscevici ma sempre in un'ottica di libertà e di rispetto delle opinioni personali dagli altri quindi l'attualità di questo di questo metodo certo noi viviamo in un mondo che è di radicalizzazione estrema nella politica americana ma nella politica mondiale e anche europea ci sono delle contraposizioni che sono difficili vediamo adesso le difficoltà di Biden diciamo proprio in queste ore quanto sia difficile per Biden riuscire a far passare una nuova legge di Ford People Act la legge che dovrebbe risolvere problemi che si sono verificati nelle ultime elezioni per quanto riguarda la partecipazione al voto soprattutto delle comunità afroamericane degli emarginati dei ghetti e di situazioni di situazioni difficili certo lì il gioco è profondamente partisan non è bipartisan ma Biden è l'uomo della ricerca non per tutta la sua carriera politica ha cercato di ottenere di far passare dei provvedimenti andando a coinvolgere e a cercare compromessi con la parte repubblicana ecco Reagan ha usato questo metodo con un atteggiamento con un carattere con uno stile sicuramente diverso ma ha usato un atteggiamento che era proprio di quella politica americana della ricerca del consenso bipartisan non poteva essere non avrebbe voluto essere diversamente affrontare una sfida come quella gigantesca che aveva affrontato su due piani su quello economico e su quello militare nei confronti dell'Unione Sovietica e la sfida è stata vincente proprio grazie alla sua capacità di aggregare gli alleati alla sua capacità anche di riuscire a fare un'aderoga ai suoi principi fondamentali di meno Stato meno presenza dello Stato nell'economia meno spesa pubblica nel sostenere qualsiasi attività economica perché invece nel settore della difesa il suo principio era investiamo tutte le risorse che dobbiamo investire per deterrere l'avversario per evitare che l'avversario ritenga che noi siamo più deboli di lui e allora il primo anno della sua presidenza aumenta di 29 miliardi il bilancio delle forze armate 29 miliardi è una cifra colossale all'epoca credo paragonabile a diverse centinaia di miliardi oggi se non se non di più e e dice anche e la e l'intervento è così significativo che nel corso di otto anni le spese per la difesa aumentano del 30-31% complessivamente quindi la forza dell'economia su questo ma anche la forza della narrativa della costante del costante convincimento in tutte le azioni politiche svolte all'interno e all'esterno del paese sul piano del confronto fra mondo della libertà e mondo della repressione e della negazione della libertà e su questo aspetto particolare è estremamente importante quello che è già stato detto ma che ho così ho avuto modo di approfondire anche personalmente in questi ultimi mesi parlando delle diverse rievocazioni dei fatti di Danzig oltre che un paio di anni fa della caduta del muro di Berlino ricordare quanto la comprensione e l'amicizia personale fra Giovanni Paolo II e il presidente Reagan fosse forte e sin dall'inizio sin dalla prima udienza in Vaticano questa intesa ha chiaramente dato una visione una coincidenza di visione che è stata veramente molto significativa ne ha parlato recentemente in un suo bellissimo libro I tre papi santi il cardinale Giovanni Battista Re ricordando degli aspetti credo di grande interesse e non e non facilmente ascoltati e scritti nelle cose che si scrivono di quel periodo ad esempio come Giovanni Paolo II proprio sul tema della libertà dell'individuo del ritenere che l'ateismo fosse un elemento non di forza ma di grande debolezza del comunismo e soprattutto che il comunismo aveva negato se stesso nel negare i diritti fondamentali dei lavoratori e la loro condizione economico-sociale e che erano soprattutto tutti questi temi ricorda il cardinale Re in questo libro ricorda come fossero centrati perfettamente da San Giovanni Paolo II nella centesimus annus rievocazione cent'anni dopo della rerum novarum che parlava appunto della dottrina sociale della chiesa quindi questa convergenza tra il compassionate republican compassionate conservatism cioè un sì un mondo repubblicano sicuramente conservatore ma anche solidale anche rivolto a un mondo preoccupato delle discriminazioni razziali un mondo molto orientato verso i problemi della società ed è l'uscita dalla povertà degli americani del risveglio dell'american dream e dall'altro un ideale di libertà portato avanti dalla chiesa in modo molto determinato ha consentito di combattere questa grande sfida degli anni reganiani che era l'attacco e la minaccia del mondo comunista sicuramente questi concetti questi valori questo senso di liberalismo conservatore è certamente di grande attualità oggi mancano i reagan mancano i giovanni paolo secondo questo è evidente che gli uomini non si possono ripetere per quello che sono stati ma siccome rimangono le idee da un lato e le sfide dall'altro l'attualità di reagan credo che abbia un significato molto profondo ai nostri giorni grazie ambasciatore un'unica cosa forse di come dire leggero disceso forse troppo non so quanto l'aumento e l'esplosione delle spese militari possa essere considerato una sorta di deroga dei principi liberali perché fin da come dire Adam Smith sosteneva che erano tre le cose che doveva fare uno Stato difendersi dai confini esterni l'ordine pubblico interno e le opere pubbliche finanziate che non si autofinanziavano da sé quindi non lo so se neanche quella è una vera e propria deroga dai principi io volevo fare semplicemente condividere due citazioni perché è anche un uomo molto efficace nella diffusione del pensiero la prima è questa lo Stato è come un bambino un canale alimentare con un grande appetito da un lato e nessun senso di responsabilità dall'altro credo che questo dimostri anche la coerenza e l'efficacia con cui diffondeva le sue idee e la seconda è che mi piaceva citare è esattamente questa il punto di vista del governo sull'economia può essere rassunto in poche brevi frasi se si muove tassalo se continua a muoversi regolamentalo e se smette di muoversi sussiglialo peraltro in queste citazioni c'è anche un fusionismo piccolo nel senso che queste sono citazioni dell'istituto liberale che sta facendo un gruppo di ragazzi che sta facendo un lavoro incredibile sui social nel diffondere il pensiero liberale e noi ci teniamo credendo nella concorrenza ma anche nella sinergia di intenti di valorizzare sempre questo lavoro e poi dopo due citazioni mi permetterete una sorta di come dire di parafrasi del pensiero di Reagan la recessione è quando il tuo vicino perde il lavoro la depressione è quando tu perdi il tuo lavoro la ripresa è quando Conte perde il suo era Carter perde il suo ma quello è un altro è un altro discorso che mi consentirete volevo lasciare la parola a un intervento dall'esterno che ci segue sempre e poi capirete perché è importante e quindi adesso lo scoprirete è una persona che si chiama il suo soprannome il soprannome che gli aveva andato quando era stato ministro del bilancio del primo governo Berlusconi era Tagliarini e quindi è Giancarlo Pagliarini credo che possa essere definito un regagnano di ferro Giancarlo hai la possibilità di intervenire se attivi audio e video e visto che so che ci segui come dire con eccoti qua per arrivare Tagliarini questa sera non poteva non esserci ciao Giancarlo grazie prego ti sentiamo eccomi qua mi sa che c'è qualche problema con la linea buonasera a tutti io ti devo ringraziare questa sera c'è stata una lezione di storia straordinaria veramente una lezione magnifica giaccarlo scusa solo un secondo ti consiglio ti consiglio solo di spegnere la telecamera è una serata quindi con con si impara sempre qualcosa da te tutti lunedì sera com'è no io ti sento benissimo ti vedo benissimo non mi senti ti sentiamo altalenante e metallico quindi al netto mi senti adesso sì pronto pronto adesso perfetto perfetto adesso ci picchia ci siamo o no adesso perfetto Giancarlo adesso perfetto mi senti o no non riesco a capire se mi senti fino a poco tempo fa sì adesso prova ancora se no magari la scrivi temo che abbiamo qualche problema vi avevo pronunciato ok no appunto adesso funziona adesso sì adesso sì ok io ringrazio magnifico di questa in Italia abbiamo un disastro che non è certamente un disastro orgulloso avevo avevo il direttore san giuliano ha ricordato benone il direttore quando gli ha tratto l'inghielten per tutto lo spedere una curiosità noi in realtà Giancarlo scusa mi tocca interrompiti perché davvero no Giancarlo scusa non riusciamo a sentirti scusa non riusciamo a sentirti scusa devo chiederti magari di scrivere di scrivere nella chat direttamente perché se no abbiamo un problema con l'ascolto volevo fare io una domanda in attesa di quelle poi ci avviamo alla conclusione allora molto semplice quanto bisogno c'è oggi di reganismo in Italia e appunto credo che la risposta migliore l'abbia data Marco Respinti con gesto della mano che gli altri due relatori non hanno visto ma era questa cioè traduco una marea sono assolutamente d'accordo quindi in un momento in cui come dire l'intervento dello Stato nell'economia le nazionalizzazioni il pensare che come dire il deficit pubblico sia la salvezza dell'economia insomma gli investimenti stranieri sono assolutamente considerati negativi in cui c'è qualcuno che pensa che per risolvere i problemi o per dare speranza ai giovani sia di introdurre una patrimoniale e quant'altro quindi quanto ce n'è disperato bisogno oggi una risposta che credo sia abbastanza ovvia e quanta dall'altra parte quanta speranza c'è che si possa arrivare a quel a quell'obiettivo di avere come dire un'aspirazione una convinzione liberale reganiana credo fisiologicamente nell'alveo naturale che è quello del centro-destra che dovrebbe avere questo tipo di impostazione che purtroppo Temo non abbia più da anni e quindi se credo siamo tutti d'accordo che ce n'è un disperato bisogno quali sono gli strumenti per poterci arrivare perché voi avete parlato giustamente dal punto di vista della battaglia delle idee che è quella che va combattuta noi diamo il nostro piccolo contributo ogni settimana ci sono sicuramente nel nostro paese state alcuni aspetti positivi la creazione di un team tank come l'istituto Bruno Leone che sta facendo un lavoro straordinario da molti anni ormai da 2003 sicuramente ci sono casi di trici come la Liberi Libri e la Rubettino che stanno facendo un lavoro incommiabile di promozione delle idee liberali forse quello che manca oggi è il collegamento tra centri studio e fondazioni in Audi piuttosto che altre ma il collegamento strutturale non tanto come subalternità tra appunto pensatoi di vario tipo ma come volontà dei partiti di attingere e quindi di servirsi di utilizzare e di mettersi a servizio dei centri che elaborano le idee e quindi conseguentemente le polisi personalmente credo che il motivo per cui non ci siamo più è questo però volevo sentire l'opinione di tutti quanto ce n'è bisogno quanto sia realisticamente raggiungibile questo obiettivo e come direttore San Giuliano partirei da lei innanzitutto fammi dare un ringraziamento a Marco Respinti all'ambasciatore Giulio Terzi per i loro interventi e per come hanno colto lo sforzo che ho fatto con questo libro la storia non si ripete mai evidente che poi Reagan è un uomo del suo tempo ripeto la storia è un orientamento che ci aiuta a capire la realtà di oggi ad orientarci all'interno della realtà ci dà degli elementi conoscitivi quanto c'è bisogno di liberalismo secondo me tantissimo perché oggi perché vi ricordate negli anni sessanta negli anni settanta i paesi sovietici si definivano tutti quanti democratici la repubblica democratica tedesca la repubblica democratica polacca cioè tutti quanti si definivano democratici evidentemente la democrazia da sola non soddisfa il bisogno di libertà la democrazia è un meccanismo importante fondamentale ma è un meccanismo giuridico costituzionale ma democrazia senza libertà senza liberalismo non si va da nessuna parte cioè come dire sono due facce di un giano bifronte democrazia e liberalismo molte società occidentali si sono accontentate del formalismo democratico ma questo sarebbe un discorso che ci richiederebbe altri due giorni e non hanno però poi iniettato in questo formalismo democratico un tasso di liberalità e questo lo dimostra per esempio la questione giudiziaria del nostro del nostro paese sapete che in queste ore non si riesce a trovare un candidato sindaco da nessuna parte non si riesce mai a trovare un candidato presidente di regione non se ne treveranno sempre di più perché ovviamente oggi in Italia fare il sindaco significa avere l'avviso di garanzia garantito cioè sicuramente tu puoi essere la persona più onesta del mondo finisci sotto le presse della giustizia allora ci vuole molto liberalismo cioè le società occidentali devono ritrovare come dire la sacralità della libertà degli individui Marco quanto ce n'è bisogno quanto è realizzabile e come? ce n'è bisogno più che tanto tantissimo come dicevi giustamente prima per tutte le cose che hai elencato ma ne mancano ancora tante per cui ce n'è bisogno tantissimo sono d'accordo con quanto diceva San Giuliano poco fa individuando alcuni nodi importantissimi delle dinamiche come farlo se lo sapessi avrei invinto non solo il Pulitzer ma il Nobel e quant'altro non neanche voglio interpretare la parte di quello che dice perché l'abbiamo sentito ed è un discorso giusto ma l'abbiamo sentito fare tantissime volte bisogna fare le scuole di formazione poi non si capisce mai chi le deve fare chi le fa ma è vero è vero che il mondo che ama la libertà che ama i diritti e i doveri della persona sono diventato allergico alle etichette ma avete capito a cosa voglio puntare è vero che soffro di un deficit rispetto alla nostra alla parte avversaria molto molto antico e molto profondo io non so come si si faccia dico semplicemente che ripeto quello che dicevo prima Reagan non nasce sotto il cavolo non viene dal nulla non viene da Marte in un deserto non voglio neanche uno scimiotatore di Reagan in Italia vorrei un italiano a Quirinale un italiano in Parlamento per parafrasare un americano alla Casa Bianca e quindi un uomo che sappia far tesoro come Reagan l'ha fatto rispetto alla sua tradizione e quel paese far tesoro della nostra tradizione può andare a ritrovare se nella nostra tradizione culturale politica esistono degli elementi di cui fregiarsi da far risorgere e questi provare a riproporli anche in una proposta anche politica non solo politica ma anche politica come si fa davvero non ho la ricetta credo che sia difficilissimo credo che si debba impiegare un sacco di tempo ma finché ci limitiamo soltanto a lamentarsi non succederà mai nulla io credo che le idee siano lì Reagan le ha prese e le ha messe a frutto le idee ci sono se ha ragione Goldwater dicendo che sono lì da Aristotele in poi bisogna rinvocarsi le maniche vedo in questo e chiudo veramente sono stato fin troppo lungo vedo in questo sempre invece un tentativo della politica bipartisan poi ho le mie simpatie politiche come voi avete le vostre giustamente ma vedo la politica nostra bipartisan sempre all'inseguimento di se stessa la lezione di Goldwater e quindi di Reagan è come dicevo quella dell'uomo che si piega alle idee al movimento e non pensa di strumentalizzare quando faremo questo salto di qualità sarà all'inizio di un grande momento o anche chi trascina le persone sulla base delle idee come dire in cui crede e in maniera assolutamente coerente e costante ambasciatore a lei e poi cerchiamo ma io trovo io trovo che della stagione di Reagan soprattutto della fase iniziale ma anche durante la sua presidenza il rapporto fra amministrazione e congresso è stato un rapporto con momenti di tensione ma di grande equilibrio cioè di rispetto di rispetto di quelli che sono i dati fondamentali dei padri costituenti il rapporto con la Corte Suprema i giudici della Corte Suprema anche quello che anche in un caso che lui ha cercato di portare avanti e che non ha avuto successo l'ha riconosciuto non è non si è scardinato è stato un sistema di equilibri che hanno che si sono consolidati anzi la tripartizione dei poteri fra esecutivo legislativo e giudiziario direi che nel complesso degli otto anni di Reagan hanno hanno attraversato una fase di sostanziale consolidamento nelle capacità di far funzionare la Costituzione americana così nel anche sulla base di quell'impostazione reganiana che è diventata poi e che è stata sempre propria poi al mondo repubblicano ricordo il grande giudice italo-americano Anthony Scalia che era il giudice senior e apparteneva a quella corrente che è stata anche avvantaggiata durante la presidenza Reagan con la nomina di ben tre giudici repubblicani degli originalisti della Costituzione un'interpretazione molto conservatrice di quello che è il dettame costituzionale voluto dai padri dei padri fondatori dell'America quindi cos'è allora il ragionamento liberale che io auspicherei in Italia cioè il ragionamento dello Stato di diritto Pannella sosteneva che uno Stato di diritto attuato in Italia manca gravemente è uno Stato di diritto che teoricamente esiste esiste una Costituzione ma nel mondo dell'informazione non si può chiamare Stato di diritto perché c'è una occupazione dei partiti impressionante di tutto l'apparato mediatico una vera libertà di informazione come verrebbe richiesta nel nostro Paese facevamo prima di entrare in questo lavoro facevamo fuori onda alcune considerazioni cioè se vediamo la libertà della stampa con tutte le magagne della BBC o anche le magagne di alcuni giornali americani ma se vediamo come viene interpretato nel mondo anglosassone francofono francese e tedesco la libertà di stampa è una cosa che è avanti basta vedere anche le statistiche di Freedom House io quando stavo a Washington ambasciatore andavo negli uffici di Freedom House e vedevo con orrore questo colore giallo sullo stivale che non era verde non era rosso per fortuna ma non era non era neanche verde quindi il problema della libertà di stampa un grande problema il problema della dignità per esempio nelle carceri l'altra questione che contraddice lo stato di diritto la questione della giustizia è stata menzionata Ferruccio De Bortoli oggi in un'analisi del suo certo economia del suo giornale faceva dava il calcolo delle probabilità più o meno che passi la riforma della giustizia con tutte le norme e gli impegni che dovremmo rispettare il processo in appello in Italia rispetto alla Germania è otto volte tanto il tempo che è necessario per i tedeschi non è stato di diritto questo ci fosse stato un movimento reaganiano probabilmente in Italia tutte queste cose sarebbero superate da tempo quindi ci sono dei riferimenti in quella concezione di stato di diritto se vogliamo chiamarlo così dell'America di Reagan che dovrebbero insegnarci qualcosa una delle cose che sono citate nel libro che personalmente non conoscevo è la differenza tra le parole e i fatti ovvero la valorizzazione delle donne faccio due nomi che probabilmente non sono note ai più Jane Dwan Kirkpatrick e Sandra Day O'Connor queste sono le due la prima donna la prima è la prima donna ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite e la seconda è la prima donna nominata alla Corte Suprema ecco questo vuol dire la differenza tra chi ha parole parla di valorizzazione delle donne e chi le sceglie semplicemente perché sono brave non perché sono donne prima di arrivare ai saluti vi invito la settimana prossima è quello lo vedete in sovraimpressione torneremo a trattare a presentare un classico che credo abbia un titolo e contenuto quanto mai attuale testo del 500 discorso sulla servitù volontaria di Etienne della Voetì insieme a Carlo Lotieri Dario Caroliti e Francesco Berti in cui come dire avremo molti riferimenti nonostante i secoli che sono passati rispetto alla pubblicazione di questo volume alla qualità a servitù volontaria in questo periodo come dire è stata ampiamente praticata ringrazio ringrazio Marco Respitti per il suo graditissimo ritorno all'Odi Liberale ringrazio per il debutto all'ambasciatore Terzi di Sant'Agata che speriamo di avere nuovamente e ringrazio anche chiaramente il direttore San Giuliano e abbiamo sforrato semplicemente perché abbiamo come dire iniziato tardi l'impegno tassativo con gli ospiti alle 23 abbiamo sforato in 4 minuti buonanotte davvero a tutti e grazie